grazie di cuore, grazie a Sergio, grazie a Roberto, grazie a tutti gli amici che sono qua Oscar mi ha iniziato a parlare della granda ormai qualche anno fa Sergio mi ha educato a mangiare la carne cruda in un certo modo un po' imparato, nel senso che anche oggi mi sono fatto tre piatti interi di carne cruda saluto tutti gli amici brevissimo perché poi se facciamo uno scambio con due o tre questioni è meglio uno, per me il mondo della carne e di un certo tipo, di un certo modo di fare allevamento è la storia della mia famiglia mio nonno era un sensale, morto 15 anni fa era un sensale nel Valdarno se mi sentisse oggi dire che la carne della granda è una carne che mi piace molto, non faccio paragoni con altre probabilmente mi avrebbe diseredato comunque perché la carne del Valdarno, la carne della Valdichiana naturalmente per lui erano le carni numero uno al mondo ed è corretto e legittimo che fosse questo negli insegnamenti di mio nonno c'è una cosa molto semplice quando ci si dà la mano guardandosi negli occhi era un sensale non aveva bisogno di notai, non aveva timbri e marche da bollo vale più che un contratto è quel piccolo mondo antico dove il vino lo teneva lui a capotavola in basso per decidere se darlo o no a mio padre perché lo teneva in basso anziché tenerlo sulla tavola ed è un mondo di valori ora uno potrebbe dire bella questo racconto, è il passato no, questo è il futuro non mio nonno, non il vino in fondo alla tavola, anzi a terra ma le cose che ha detto Sergio e ne sono profondamente convinto noi siamo passati dall'essere una civiltà contadina con grande attenzione a certe dinamiche a un certo punto si è pensato che l'Italia di queste cose qui potesse fare a meno o comunque tenerle un po' in secondo piano sì poi ci sono anche loro se io devo immaginare il futuro del nostro paese immagino un futuro che ha straordinarie eccellenze ingegneria, i robot, saremo tra i più bravi al mondo siamo già, ci sono alcune realtà che sono a livello di intelligenza artificiale e di robotica tra le più bravi al mondo in Italia abbiamo il patrimonio culturale e paesaggistico più straordinario del mondo ma credo che abbiamo nel nostro futuro questi vostri valori e soprattutto la possibilità di investire sulla qualità e allora qui io non sono a fare un omaggio al passato a dire ah come siete bravi qui che resistete no, io sono a dire voi siete i pionieri non siete gli eredi siete i pionieri però bisogna fare uno sforzo bisogna lavorare insieme dovete aiutarci e aiutarmi a capire che cosa possiamo fare alcune cose le abbiamo fatte l'IMU agricola, l'IRAP agricola alcuni interventi concordati con Coldiretti e con gli altri sono dei piccoli passettini ancora però non bastano parlavamo prima del latte entrando non bastano anche probabilmente per molti di voi allora a me interesserebbe capire sapendo che voi siete una realtà straordinaria perché quanto la paghi la carne qui il 25% quanto pagate in più delle altre perché siete stati bravi perché vi siete organizzati perché avete una filiera di comunicazione forte perché avete la straordinaria possibilità di aiuto da parte di realtà che ormai vi considerano per quello che siete che è una realtà d'eccellenza punto però bisogna fare qualcosa in più e allora io vorrei che questo incontro anziché che è molto breve anche perché stanco delle chiacchiere romane io stamattina sono venuto qua ho fatto nell'ordine due scuole Mondovì e Bagnolo la Ferrero poi andiamo alla Venchi alla Merlo mi sono preso una boccata d'aria fresca in provincia di Cuneo ho detto devo poi ho capito che in provincia di Cuneo ci sono più divisioni che tra Firenze e Pisa perché se dici a Farinetti che lui è di Cuneo si dice no sono di Alba se vai a dire no ma io non sono è fantastica una discussione meravigliosa non ci ho ancora capito niente delle varie realtà sto attentissimo se dico Mondovì sbagliando è un disastro però quanto c'è qui in questa zona di PIL della provincia quant'è? vedi vedi gli sboroni no com'è Giusto Balos lì com'era Giusto Balos però però la cosa più bella che io vedo è che questa è una comunità con dei valori e con un'identità e con un radicamento a tutti quelli che dicono che l'Italia non ce la farà mai non ce la farà più è finita io non gli dico che ci stanno prendendo in giro però gli dico che noi con un sorriso saremo più forti delle loro paure ho però bisogno di sapere quali sono le 3-4 questioni al volo se c'è qualcuno che vuol parlare se sei d'accordo Sergio io sono d'accordo io vi faccio l'accordo Andrea Andrea Olivero che ci ha aiutati anche in questo percorso quando abbiamo fondato qui la casa del contadino ma avrei fatto parlare anche un allevatore se c'erano delle domande che avrei voluto un attimo vai hai una balletta meravigliosa Oscar Farinetti la balletta non è il mio tipo di balletta preferito però bisogna accontentarsi no io mi presento sono Mauro Olivero sono il presidente degli allevatori della grande Pullunan Pullunan no io le volevo soltanto più che far presente alcuni punti volevo farle una proposta se lei poteva far da tramite col ministro dell'agricoltura e noi come visto che c'è anche il vice ministro qua mi fa piacere così sente anche lui se potevamo venire in delegazione di allevatori con Sergio e proporre il nostro tipo di agricoltura innovativa di altissima qualità che è l'agricoltura simbiotica anche perché colgo l'occasione visto che è qua e non è che lo vediamo sempre a nome mio a nome di tutti gli allevatori della grande ci tenevo a ringraziare Oscar Farinetti perché ci ha dato un'opportunità e penso che si meriti un applausino e nello stesso tempo volevo ringraziare noi perché questa opportunità l'abbiamo sfruttata bene e non ci siamo tirati indietro sia noi come allevatori e soprattutto grazie all'impulso che ci ha dato Sergio e il segreto soprattutto della grande è che non ha segreti siamo una squadra punto siamo una squadra una squadra decisamente importante che sa andare d'accordo ed è l'unica cosa che ci permette di andare avanti grazie allora io sulla agricoltura simbiotica sono stato preso da Sergio e Francesca messone in mezzo subito adesso me lo devo guardare appena arrivo appena arrivo a Roma volentierissimo la disponibilità è totale poi naturalmente si tratta di discutere però quello che io vorrei che restasse dentro ciascuno di noi è che si può fare non è vero che l'Italia è finita cioè voi se accendete no non diciamo la tv o d'altro o qualche social network quando qualcuno di voi c'ha c'ha tempo trovate sempre delle persone che a cui noi vogliamo bene che fanno sempre l'elenco delle cose che non vanno e ce ne sono tante vedendole da Palazzo Chigi ce ne sono più di quelle che scrivono loro ma queste cose che non vanno non possono diventare oggetto di un elenco e basta bisogna cambiarle allora se voi ci venite a trovare ragioniamo con Sergio delle singole questioni pronti a discutere a cercare di cambiare però si parte da un presupposto l'Italia è molto forte nel mondo e la potenzialità che esprime ancora non siamo riusciti a raccontarla Oscar è stato un genio con Italy e non solo con Italy ha fatto un'operazione geniale oggi non so quanti sono i punti Italy nel mondo ma chi va in un punto Italy a New York dove c'erano le torri gemelle o Monaco o a giro per il pianeta trova non soltanto un negozio non soltanto un punto dove compare ma un insieme di valori Sergio ha fatto una cosa straordinaria perché probabilmente riuscire a dare non possiamo chiamarlo disciplinare ma una serie di regole poche chiare e come hai detto tu trasparenti permette a tutti di riconoscere nella vostra carne una qualità e una identità che altri non hanno Iden Roberto con Coldiretti dunque dal mio punto di vista la disponibilità è totale adesso poche chiacchiere pronti a ragionare io sono qui a omaggiare la vostra carne ho cercato anche di finirvela perché ho fatto tre piatti di carne cruda come al coltello solo col sale senza limone poi due piatti di gradisca pensavo fosse un congiuntivo un esortativo gradisca gradisca io gradisca ho gradito ho gradito a lungo poi sulla bistecca ho preso un pezzettino per sentirla però capite che come dire io con tutto il rispetto la prenderò un po' di fischi ma insomma la bistecca per me è altrove se no se la carne cruda è buonissima poi non posso dirvi che eh no ma non è che perdo i voti è che sono nipote perdo mio nonno dall'assù mi saetta e spero soltanto e mi ha fatto molto piacere vedere che stiamo tentando la mozzarella no di utilizzare anche il latte dobbiamo fare questo ragionamento sul latte noi abbiamo annunciato il decreto proprio in un'assemblea col diretti a Milano e adesso l'ultimo passaggio dobbiamo tenere insieme il grande marchio Italia un brand unico una cosa che Oscar ci diceva da Leopolda cinque anni fa insisteva dicendo abbiamo 90 miliardi di prodotti che suonano italiano e allora ne avevamo solo 30 italiani adesso siamo a 36,8 di export ma è ancora poco dobbiamo arrivare almeno almeno a 50 rapidamente però con un ragionamento sull'etichettatura che possa permettere ai consumatori di sapere nel dettaglio e di sapere per conoscere come diceva peraltro un grande della tradizione liberale di questa terra che era in Audi che diceva esattamente questo ma parlando di politica non parlando di cibo allora vi aspetto a Palazzo Chigi Sergio è un grande cercate di non far litigare troppo questi territori perché la cosa del limone è di Alba perdonatelo perdonate Oscar e dal mio punto di vista però sappiate che se c'è una cosa che rende l'Italia bella e degna di essere vissuta non sono soltanto i paesaggi sono soprattutto le persone perché c'è un rapporto tra le pietre e le persone tra la terra e i cittadini e questo rapporto è quello che fa grande un paese io sono orgoglioso di essere stato almeno per un giorno uno di voi e di continuare a esserlo almeno come consumatore come consumatore finale in bocca al lupo viva la granda e viva l'Italia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti